Ciao carissimi amici! Ho finalmente ricevuto la vostra mappa e posso dire che siete stati suuuper fantastici! Il vostro lavoro è stato davvero ottimo e anche super chiaro! Grazie davvero! Adesso l'ho inviato ai due inviati speciali! Purtroppo però si sono persi anche nel tempo! Avete voglia di aiutarli? Vi mando altre indicazioni! Grazie e ciao!